Qual è il tuo rapporto con la moda? Odio e amore, nel senso che molto spesso mi metto jeans e maglietta senza stare attenta e invece altre volte mi piace molto abbinare i colori, stare attenta alla scelta dell'abito. E cos'è per te l'eleganza? Ma io credo che sia una condizione della personalità più che non un abito e poi ovviamente la tua personalità e il tuo carisma incide anche nelle scelte che fai da un punto di vista estetico quindi credo che sia una qualità della persona. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Io ho adesso il 24 di settembre, cioè da oggi nelle sale la passione di Carlo Mazzacurati con Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Corrado Cuzzanti, Marco Messeri e Kasia Smutniak e Giuseppe Battiston. Poi invece il 19 di novembre c'è un film che si chiama Dalla vita in poi che ha vinto il Festival di Monreale e anche il Festival di Taormina e siamo nelle sale dal 19 novembre. In bocca al lupo per tutto. Fai un saluto ai lettori di Fashion Times in camera. Ciao lettori di Fashion Times. Grazie. 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 Grazie.